Parto un po' da lontano, però magari forse tutti non lo sanno. E allora partiamo un po' dal mito, dal mito di Alcesti. Chi era Alcesti? Faccio breve. Alcesti era la moglie di Admeto, Admeto, re di fera, intestaglia. Qualcuno dirà poi che ha a che fare, Galasso soprattutto, dirà che poi ha a che fare con il regno dei morti. Insomma, Admeto alla fine sarebbe stato un po' il re di un regno di morti. Comunque, la cosa è interessante perché Admeto a un certo punto riceve dall'oracolo la notizia che dovrà morire. Dovrà morire presto, a meno che qualcuno non muoia al posto suo. E allora lui lo chiede, lo chiede ai genitori vecchi, eccetera, eccetera, ma nessuno vuole morire. Soltanto Alcesti, che era la moglie di Admeto e la quale aveva avuto anche dei figli, a un certo punto si offre e muore al posto suo. E' molto bello il discorso, insomma, l'addio che Alcesti nella tragedia lancia lasciando la terra e offrendosi, insomma, per morire il posto di Admeto, molto toccante. Però è interessante vedere questo fatto, questo mito, come forse, con le dovute attenzioni ovviamente, ma come un qualcosa che prelude al trapianto di organi, alla donazione degli organi. No, è una persona che in qualche modo muore, prendendo il posto di un'altra che avrebbe dovuto morire. Allora, se non un po' riflettiamo, no, cosa succede, insomma, quando si attua un trapianto, che c'è una persona che muore, ovviamente non come scelta, ma insomma, una persona che sta per morire, e alla quale si tolgono degli organi, ovviamente col consenso, con tutta la normativa necessaria, per donarli a un ricevente che grazie a questi organi di chi non se ne farà più niente perché dovrà morire, riuscirà ad avere nuova vita. Ormai è una cosa, no, questa è dei trapianti, ormai che si fa da tanto tempo, insomma, che funziona, eccetera. Io mi ricordo ai primi tempi, no, ero studente, primi anni di università, quando è venuto Barnard, insomma, no, il primo chirurgo che ha fatto il trapianto di cuore, insomma, no, lo scalpore, il dibattito, la cosa che c'è stata, no, sulla sopravvivenza del primo paziente trapiantato, tutte le cose che ai suoi tempi è stata molto importante, rivoluzionaria. Io ho detto questo perché questa possibilità di dare nuova vita attraverso il corpo di chi sta per morire, e quindi gli organi di chi sta per morire, ha creato una piccola altra rivoluzione nel campo della medicina o delle pratiche mediche, ma anche nel campo, in qualche modo, del pensiero, della modalità di pensare alla morte, ossia, mette in discussione la definizione di cos'è la morte e di quando si muore. Di quando si è morti, beh, insomma, cos'è la morte lo sappiamo tutti in linea di massima, però la cosa più difficile da stabilire è il momento in cui ci si deve considerare morti, quando si muore, si muore praticamente per tre motivi soprattutto, no? Diciamo, finali, perché il cervello è dannezzato irrimediabilmente, non funziona più, perché il cuore smette di pompare sangue, perché i polmoni smettono di ossigenare il sangue. Le cause prime possono essere tante, un'emorragia, non c'è più sangue, il cuore poi si ferma perché non ha più sangue da pompare, tante altre cose, ma insomma, alla fine le cause ultime di morte sono queste. Quindi, cervello, cuore, polmoni. E allora era chiaro, fino a prima che si ponessero certi problemi, di cui vi ho accennato, era chiaro che uno era morto quando il cuore smetteva di battere, e quindi quella era la morte. Insomma, diciamo che il cuore era l'indice, insomma, era l'elemento che ti faceva dire, no? Tastavi il polso e questo qui aveva tirato gli ultimi e è morto. Quindi, stabilire il momento della morte era abbastanza facile, probabilmente, no? Il cuore non batteva più. Ma poi nella medicina è intervenuta la tecnica, e quindi sono intervenuti degli strumenti che, per esempio, hanno permesso di far sopravvivere delle persone che hanno un cervello irrimediabilmente danneggiato, per esempio, o delle persone che non ce la fanno più a respirare da soli. Quindi, con la macchina respiratoria, insomma, no? Intubando il paziente, mettendolo in macchina, si poteva ventilarlo artificialmente e quindi prolungare, diciamo così, la sopravvivenza anche in un malato che non respirava più da solo. E magari uno non respira più da solo quando il cervello è danneggiato irrimediabilmente. Allora, appunto, prima è intervenuta la tecnica. E poi sono intervenuti i trapianti. Questa possibilità di dare una nuova vita a chi stava per perdere questa vita, perché aveva un organo che non funzionava più, ma tutte le altre capacità vitali invece buone. E quindi la possibilità di utilizzare gli organi di uno che stava per morire, che aveva, diciamo, il cervello soprattutto irrimediabilmente danneggiato, e che quindi, perché poi tra l'altro il trapianto di cervello ancora non esiste, e quindi con gli altri organi funzionanti, quindi era possibile prelevare un altro organo e trapiantarlo in uno che quell'organo lì l'aveva irrimediabilmente danneggiato, e quindi far vivere di nuova vita questo soggetto. Ma c'è un problema. Il problema è che il trapianto da cadavere non funziona. L'organo deve essere buono, fresco, in qualche modo, no? Quando è che l'organo è buono, fresco, per poter essere, si presta ad essere trapiantato? Quando il soggetto è ancora in vita e non è malato gravemente, una delle situazioni ideali è un danno cerebrale irreversibile. Pensiamo, per esempio, a un grosso trauma che danneggia irrimediabilmente il cervello. Improvviso, a quel punto là, l'organismo per il resto era sano, c'è un malato che ha un cervello irrimediabilmente danneggiato, il cuore continua a battere. E quindi è ancora un soggetto vivo, se consideriamo il fatto che il cuore continua a battere. I polmoni non respirano, ma è possibile attraverso una macchina tenerlo in vita, continuare a farlo respirare artificialmente. e il cervello, invece, non funziona più. Allora diventa importante trovare un nuovo criterio, perché questo signore non è ancora morto, ma, diciamo, non può più vivere. No. Dobbiamo stabilire un nuovo concetto di morte cerebrale, cioè dobbiamo trovare delle regole per le quali possiamo definire che questo soggetto, oppure avendo un cuore che ancora batte, quindi secondo il vecchio criterio è ancora vivo. Dei polmoni che possono essere fatti funzionare, però un cervello che è così danneggiato che lo mette in una situazione di coma profondo, ma che anche non ha, diciamo, più delle possibilità teoriche di riprendere la sua funzione, quindi di far ritornare in vita, dal punto di vista del pensiero, della coscienza, quel malato. Perché in questo modo abbiamo un soggetto, un donatore, del quale possiamo utilizzare degli organi funzionanti, in modo stato, e che quindi possono dare vita al nuovo trapiantato. Quindi questa cosa, diciamo, supera il concetto di morte che avevamo prima, insomma, dobbiamo trovare un concetto di morte, è stato trovato un concetto di morte cerebrale, quindi sono stati fissati dei parametri, potete andarveli a vedere, li troverete, secondo i quali si può definire che quel cervello è talmente danneggiato che non riprenderà più. E quindi il soggetto che ha perso, in qualche modo, il cervello non è più un soggetto che ha vita. Quindi è morto senza che il parametro che prima si era sempre usato per definire la morte sia stato così alterato. Certamente se noi togliamo la macchina, gli togliamo il respiratore, si ferma anche il cuore, però sapete che la tecnica può fare artificialmente molte cose, insomma. Arrivati a questo punto, però, allora ci sono delle regole, deve essere vista una commissione, deve fare determinati esami, l'elettroencefalogramma deve essere piatto, gli riflessi del tronco devono essere assenti, tutta una serie di situazioni che poi devono essere ricontrollate in un primo tempo, ricontrollate il giorno dopo e così via, quindi devono mantenersi e a quel punto là si fissano dei criteri che non siano soggettivi, devono essere più medici a stabilire questa morte, dopo di cui il soggetto, anche se il cuore continua a battere, viene considerato morto, morto di una morte cerebrale, e quindi si può abdicare allo sforzo di tenerlo ancora in vita, anche se il cuore batte. Questo però fa sì che anche il concetto, diciamo, filosofico di morte cambi grazie alla tecnica, o perlomeno cambi il criterio con cui possiamo dire quando è morto, nel senso che se questi sono i criteri, quando consideriamo morto questo soggetto? No. Quando ha avuto il danno irreversibile e quindi viene giudicato essere in uno stato di morte cerebrale, oppure quando gli toglieremo la macchina, il respiratore, e quindi poco dopo il cuore si fermerà e allora sarà veramente morto con tutti i criteri. Ma quando sarà morto con tutti i criteri, eccetera, eccetera, poi non potremo più utilizzare gli organi da cadavere. Allora, voi vedete che proprio per quello che è successo nella nostra età, nell'età della tecnica, per come la medicina, questo che è stato un progresso alla medicina, che però è entrato a, come dire, a confliggere con un certo modo di pensare alla morte, cambia la visione e soprattutto può cambiare il tempo in cui possiamo dire che quel soggetto è morto. Se diciamo che è morto quando abbiamo accertato che l'elettroencefalogramma è piatto, allora potrebbe essere morto oggi, ma poi se la morte sarà quella quando si fermerà il cuore, quindi quando lo toglieremo dalla macchina, allora, e lo faremo domani, allora sarà morto domani. Quindi l'ora della morte potrà cambiare a secondo del concetto che usiamo per definire la morte. Ecco allora che se ragioniamo in un modo diciamo tradizionale, poco informato su quello che succede, su quello che è successo, su questi cambiamenti anche della medicina, della tecnica, riusciamo, diamo dei giudizi che sono poco aderenti alla realtà. dobbiamo capire che proprio in base a questo anche l'ora della morte può essere meno precisa, meno definita, oppure si possono essere delle contraddizioni, a secondo appunto dei criteri che usiamo per definire la morte. La morte è soltanto quando stacchiamo il tubo, per esempio, quando lo togliamo dal respiratore, anche se abbiamo già detto che la morte cerebrale era già avvenuta prima, un giorno prima, magari due prima, insomma, no? Sei solo in quel momento che è morto, oppure, siccome non possiamo togliere gli organi a un vivo, quindi dobbiamo considerarlo morto quando abbiamo accertato che c'è stata una morte cerebrale, quando questo individuo comunque non ha più cervello, insomma, non ha più cervello funzionante, il cervello c'è ancora, quando, secondo i criteri che sono stati fissati, stabiliti, questo cervello non serve più a niente e quindi possiamo anche evitare qualsiasi altro sforzo inutile di tenerlo in vita perché terremo in vita un cardavere mummificato, insomma, non più una persona che possa avere una speranza di sopravvivenza e di sopravvivenza autonoma, soprattutto, e di ripresa della coscienza. Poi, ovviamente, questo non è un terreno semplice, è un terreno delicato in cui la discussione continua a essere aperta, in cui i valori etici si misurano, insomma, no, dipendono anche dalle convinzioni religiose, insomma, da tante questioni, però la cosa di fondo è che dobbiamo renderci conto che anche la morte non è più un fenomeno così semplice e quindi così chiaro come era prima del 68, diciamo così. E quindi, allargando ancora il discorso, che non sempre la realtà è così semplice di come ci appare e quando giudichiamo la realtà e diamo dei giudizi convinti che sia semplice, spesso perchiamo un po' di presunzione. Ecco, arrivederci.